Siamo con Federico Guzzo, presidente della consulta giovanile di Bagheria. Venerdì prossimo organizzate una manifestazione a livello distrettuale, potremmo dire, contro l'uso del crack. Volete approfondire questo argomento cercando di coinvolgere quante più persone possibili? Sì, allora in realtà noi già proviamo ad affrontare il tema che non è semplice, da anni, non da ora. A seguito dell'assemblea che abbiamo lì voluto organizzare per approfondire a fine novembre il 23 se non ricordo male, abbiamo deciso di lanciare una manifestazione che desse un segnale, accendesse una luce. Per dire che c'è un pezzo di comunità che si rende conto delle problematiche e decide di combatterle in maniera sinergica mettendo a disposizione della propria comunità tutte le energie che ci sono. Per questo motivo venerdì facciamo una fiaccolata che partirà da Piazza Madrice alle 17 e attraverserà tutto il Corso Umberto. Terreno, tra l'altro, pezzo di città molto spesso al centro del dibattito proprio perché è il centro storico di Bagheria, una di quelle zone all'interno delle quali pare diffondersi di più il fenomeno delle sostanze, delle sostanze stupefacenti ovviamente, e anche dei piccoli fenomeni di microcriminalità che ancora per fortuna non causano enormi problemi, ma se sommiamo questa cosa a quell'altra cosa il rischio che nel tempo peggiori la situazione è reale. Per questo motivo facciamo questa fiaccolata. Ci auguriamo che tutte le associazioni e le istituzioni che hanno garantito la propria partecipazione siano presenti anche venerdì e ci auguriamo soprattutto che anche dai comuni vimitrofi, quindi del distretto, si comprenda la gravità del fenomeno e si decide di partecipare alla manifestazione. Grazie a tutti!